salve a tutti ragazzi eccoci ad un nuovo video in questo caso non è né un una posa anche se sto mostrando il mit né una recensione ma è un diciamo è un video che voglio fare per parlare un pochettino delle varie polemiche che in questo in queste ore si stanno scatenando sul web per quanto riguarda il mit di siren sorrento questo mit è un mit limited però come potete aver visto nell'intro di questo video ho messo delle fotografie di alcune scan che sono uscite e nel quale bandai praticamente annunciato questa nuova uscita chiamata se si è stata tradotta bene siren sorrento asgard final battle infatti nella confezione vedremo oltre a dei visi nuovi ed una capigliatura praticamente opposta a come va questa qua di sorrento ci saranno presenti anche il il bustino ed il copri copri petto di orion nella versione danneggiata ora perché si parla di polemica perché per i più quasi tutti hanno sempre affermato che bandai i limited non li avrebbero mai e non li avrebbe mai ristampate infatti sorrento è un mit limited però bandai già c'è già ha ristampato dei prodotti che in realtà erano limited e sto parlando tipo di shun o di pegasus nella versione pogo sia power of gold per intenderci le v2 con i per intenderci le v2 quando proprio nella serie di nettuno diventano dorate si uscite infatti erano state presentate con una confezione diversa e allo stesso tempo avevano ed erano per per il mercato di hong kong se ricordo bene quindi secondo momento hanno fatto la fiera hanno fatto le fiere tamashi proprio in giappone e quindi hanno preso lo stesso identico prodotto l'hanno ristampato e gli hanno cambiato semplicemente la scatola adesso invece per quanto riguarda sorrento almeno dalle foto che si è vissa non so come sarà presentata la scatola però è un uscita al di là del diciamo dell'aspetto fierissimo che da in là a molti a molte tipi a molte tipo di polemiche soprattutto a vari scenari ovviamente la prima cosa che penso è camus il camus sulplice che già era stato ristoccato per il mercato al mercato messicano mi sembra l'anno scorso con un'uscita speciale con in più il il broken set di dei tre stupici ossia di camus di di shura e di saga però non era una vera e propria ristamba l'hanno detto restock in questo caso c'è un uscita un uscita nuova come dicevo che va ad aggirare la problematica della dicitura ora dov'è l'alice dicitura sulla confezione di sorrento che ho che ho qua potete vedere questa scritta che è la dicitura da by tamashi web limited ed è esempio questa questa dicitura sul confezione di mizar mettiamo qua potete vedere non c'è e infatti mizar è un'uscita regolare quindi come sono stati pure i cavalieri d'oro quindi nulla vieta bandai un domani di di ristambarlo senza dover pensare a chissà quale escamotaggio e quindi a questo punto ovviamente ci sono persone felici che non lo hanno e che quindi possono comprare adesso il mit che è arrivato a costare anche su ebay tipo 33 350 anche 400 euro a prezzo abbastanza normale dovrebbe costare mi pare di aver visto 16 mila yen quindi dovrebbe penso che comunque costicchierà un po e rispetto alla sua uscita normale c'è chi giustamente dice adesso questa di questa copia perderà valore e altri che dicono se bandai fa così ovviamente scontenta i collezionisti quindi per i perché di questo video perché per come la vedo io sinceramente io spesso se vedete le mie recensioni dico sempre che alcuni mi sono arrivati a costare delle cifre esorbitanti che non stanno né in cina né in terra per me allora io li adoro i mit adoro i cavalieri dello zodiaco e sono la mia vendetta di quando ero praticamente piccolo e volevo tutti quanti vintage però non li potevo avere anche perché quando sono usciti i cavalieri io già era nel 90 ero già grandicello e quindi non non mi regalavano più i giocattoli per dire quindi quei quel libra che ho me lo sono comprato con con i miei piccoli risparmi con i soldi che mi davano a casa per diciamo comprare la colazione per andare a scuola non me la non me la compravi mi metteva da parte i soldi per arrivare a quelle 39 mila lire per avere almeno il mio segno che appunto fu libera e quindi io sto spogando su questi su questi modelli che però non sono proprio modelli da collezione di altissimo livello so che molto probabilmente qualcuno sorcerà il naso sulla mia affermazione però una cosa è un che in realtà all'inizio questi stavano 60 70 euro adesso stanno sui 110 115 a salire di uscita perché sono aumentati i prezzi altre cose sono state da collezione che partono già da 6 700 euro capirete che c'è una differenza e quindi noi andiamo a vedere sempre col difetto la colorazione però sono prodotti si sono prodotti da comunque da collezionismo ma tra virgolette un collezionismo basso cioè non è un collezionismo top un prodotto del genere non può costare tre volte quattro volte l'uscita perché va ad avvicinarsi ad il valore se secondo me ad il valore di quello che è un proprio un altro tipo di standard collezionistico io sto aspettando una un action doll di di berserk che sta su questi su queste cifre ma stiamo parlando di un action doll di 30 centimetri con il led quindi stiamo parlando di un altro tipo di dettaglio qui c'è il metallo c'è la somiglianza all'animo c'è il divertimento però sono action figure un pochettino più come dire più non sono le action figure della mega quelle la diciamo da 25 30 35 euro però non possono mai essere di quella fascia di prezzo ovviamente questo è un mio pensiero e io per questo a determinati myth preferisco non prenderli ritornando però alla natura del video ci sono varie teorie all'inizio quando sono uscite le scan le prime foto che sono uscite erano soltanto dei dei volti di sorrento e di questi pezzi in più di orion e quindi si pensava proprio perché si dice che bandai proprio non ristampi il limited ma si dice ma in realtà trova sempre il modo di ristampare il limited in questo caso io credevo al proprio quando ho visto le prime scan con le poi ovviamente con le scritte giapponesi chi caspita ci capisce niente credevo facessero tipo un set come il set broken dei dei surplus appunto invece non è stato così durante la giornata sono uscite le scan finali e quindi c'è proprio questo prodotto dovrebbe uscire a giugno se adesso ricordo bene maggio giugno mi sembro giugno luglio non mi ricordo comunque questi due poi sotto sotto la descrizione del video metterò ovviamente le le diciture esatte e quindi hanno si è capito proprio che esce il cavaliere nuovo e quindi tutti quanti se adesso basta farsi un giro su ebay stanno iniziando a spuntare sorrento come i funghi ultimamente erano usciti due modelli sia della jmodel della star model come effetti eppure era andata bene come vendita ci sono parecchi e giustamente dicono adesso a questo punto mi comprerò il bandai io devo dire la verità io sono felice di questa cosa cioè nel senso io ce l'ho non ve lo comprerò questo nuovo modello perché sinceramente non mi interessa nemmeno il fatto che ci siano i pezzi di orion per quanto io orion lo adoro ma significherebbe comprare un modello che già ho per me è inutile però io sono felice che chi adesso si sta avvicinando al mondo come è successo a me tipo due anni fa che sono rientrato nella nel mondo del collezionismo ovviamente lo scoglio di sorrento non sarà uno scoglio più così alto elevato perché ovviamente io quando ho iniziato chiedevo mai sulpice tutti quanti mi dicevano no camus ci vogliono 250 ci vogliono 300 euro ma ho visto pure a 500 euro e la cosa mi scoraggiava e mi chiedevo ma bandai gli conviene fare una cosa del genere perché poi dopo alla fine chi si arricchisce non è bandai stessa ma sono persone che lo hanno e se lo vendono chi ha investito ha preso più copie ha aspettato il momento anche perché questo è un rischio che può essere che non prende valore però sta di fatto che un prodotto camus che costava 90 euro pagarlo 350 370 euro per me non esiste al mondo e ho virato sul ho virato sul camus sulpice della cs model sinceramente non sono contento però ho il pezzo in collezione e sto qui ad aspettare e dico sempre bisogna aspettare perché perché come adesso hanno fatto sorrendo credo che potranno fare benissimamente camus basta non metterci volti come ho detto prima e si è fatto e ripeto io sono felice anche se diciamo questa mia copia adesso ha un valore cioè fino a ieri questa copia aveva un valore oggi sta iniziando a abbassarsi di valore a me sinceramente non interessa perché io sono un collezionista che colleziono per me io faccio determinati sacrifici e compro i modelli e spongo sono felice della resa io voglio che che la resa del mit sia bella a me sorrendo piace tantissimo al gonnellone un pochettino troppo grande si non è proprio posabilissimo perché per questi pezzi qui 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 che sono di plastica attaccati come li vai a muovere se ne saltano e saltano saltano bestemmie per non dire altro è questo è vero è verissimo però il mit dentro la vetrina mi piace tantissimo però non mi interessa il c'è il valore si sono fiero di avere un pezzo che costa di più però mi dispiace pure per chi non non ce l'ha e non lo può comprare perché sincero c'è non lo può comprare se ragiona come ragiono io che questi pezzi non possono costare questi soldi non li compro allo stesso modo però tu bandai non non producendolo più fai in modo che delle case parallele in questo caso la j model e la star model li producono fake e quindi comunque ci vai a perdere altre entrate perché adesso io sono sicuro che questo nuovo sorrendo che uscirà andrà andrà ruba quindi capisco pure chi invece si nervosisce di questa cosa dice giustamente io avevo un pezzo che adesso costava tanto e quindi mi farebbe piacere se commentasse sotto sotto nel video per vedere com'è la vostra posizione per quanto riguarda questa scelta di bandai che può essere impopolare però sinceramente io in questo caso ce l'ho il mit mi potrebbe dare fastidio ma a me non mi da per nulla fastidio anzi a questo punto non aspetto altro che un giorno mi fanno finalmente uscire la ristampa la nuova edizione perché non è proprio una ristampa ma una nuova edizione invece di sorrendo di camus un altro pensiero che ho fatto l'ho scritto anche sul sul mercatino sanseya mercatino mit crott dove sono moderatore e dove dove appunto stavamo discutendo di questa cosa che è un po paura che questa uscita sia sia una brutta notizia per quanto riguarda la serie di asgard la serie di asgard dovete sapere che è una serie che bene o male più o meno sappiamo tutti che una serie filler che è una serie che nel manga non esiste i giapponesi solitamente snobbano questa questa serie siamo più noi europei oppure gli altri mitomani dell'america latina a preferire la serie di asgard la serie ad esempio la serie di nettuno che qui non è proprio la preferita di più lì invece è molto molto amata quindi perché perché sto dicendo questo le prime tre uscite dei cavalieri di asgard sono tutte state sono state normal non sono state limited e ovviamente bandai non è che dice quanti ne ha venduti e quanti non ne ha venduti io ho paura che non lo so che che non sta andando proprio bene la vendita oppure loro non si aspettano questa vendita vi diceva un amico che spero che vedrà questo video e capirà che mi riferisco a lui che ovviamente basta abbassare la tiratura degli asgardiani mettere la dicitura limited quindi aumentare il prezzo e quindi porteranno alla fine la la linea io ho semplicemente il timore che il fatto che abbiano ristampato un massave che è sorrento richiesto da molti che non si trova che è arrivato a costare un sacco un sacco di soldi cioè sorrento costa il doppio di nettuno se adesso vogliamo recuperare nettuno nei mercati diciamo che quella la versione col trono bene o male sui 200 euro si trova questo ce ne vogliono 400 e stiamo parlando di un mit semplice che ha altri pezzi alle ali e altre cose però comunque stiamo parlando di una versione con trono 200 220 questo 400 ho visto dei pezzi con il brown box di sorrento che non ve lo dico proprio non ve lo dico proprio e quindi che e quindi che che dire io ho paura che la linea di asgard invece non stia andando troppo secondo le loro aspettative e quindi ristampando questo sorrento con i pezzi di orion invogliare a chi non ha ancora iniziata la linea perché ovviamente si troverà questi due pezzi dentro e quindi a questo punto me lo compro anche i orion può essere questo può essere può essere che hanno copia a terra di orion e che quindi le vogliono muovere quindi facendo così certe strano che manca ancora l'ultimo generale e invece di usciti non c'è l'annuncio dell'ultimo generale ma ci sarà l'annuncio di una riuscita di un di un nuovo di un nuovo mi c'è dello stesso mit con dei pezzi legati ad un'altra serie è vero che sorrento fa da tradunione tra la serie di asgard e la serie di nettuno come nel manga fa la stessa fa la stessa cosa per quando riguarda il santuario e la serie di nettuno li è che va a combattere con torno del manga ovviamente penso che lo sappiamo tutti appunto potevano fare sorrento e metterci dentro tipo la un elmo di toro per fare in modo che si potesse fare la scena invece hanno messo questo pezzo di asgard questa cosa mi dà un po da pensare già che ci troviamo girato la scatola per fare vedere l'altra combinazione con le ali l'elmo e gli altri volti ed il totem quindi non lo so vorrei un pochettino oltre diciamo a riportare la notizia per chi non frequenta facebook e quant'altro vorrei sapere un pochettino che cosa ne pensate di questa scelta si siete felici o meno per cercare di capire appunto cosa ne pensano le altre persone perché alla fine si sui vari sui vari gruppi su facebook le discussioni ci sono però non sono proprio ordinate ovviamente purtroppo come erano quando si stava sui forum che c'era il c'era la discussione e si parlava sempre in quella discussione della stessa cosa c'era il topic si poteva andare un po off topic però io se volevo andare a a vedere le varie notizie di sorrento sarei andato nel topic di sorrento adesso ovviamente tipo nel mercatino abbiamo messo la notizia però ovviamente ci sono gli altri annunci degli utenti e quindi sale scende la notizia poi vai a vedere un pochettino i commenti e tutto e quindi viene un pochettino tutto disperso non so se la cosa può essere può può essere di aiuto comunque queste diciamo sono le cose che io che ho pensato e mi sembrava doveroso doveroso fare quindi a questo punto lo vado a rimettere in vetrina farò un piccolo vi farò vedere com'è l'esposizione adesso dei marine e spero che il video vi sia stato di aiuto se non conoscevate questa con questa notizia e vi ripeto mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensate alla fine del video metterò di nuovo le scan che sono uscite quindi se le avete perse all'inizio le potete le potete ritrovare quindi vi saluto alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti